Quindi più o meno hai capito tutto, giusto? Ecco, grazie a Dio, sì. È stato letto dal Vangelo secondo Luca la parabola che dice di non sedersi nei posti davanti e di fare delle opere di bene a persone che non possono restituire. Ringraziamo Signore per questa bella giornata, una giornata di sole. Ci sono alcune persone qua, poche persone, e c'è anche una persona all'esterno. E grazie a Dio siamo tra di noi, quindi invitare delle persone che non possono restituire, così saremo beati, perché essi non hanno il modo di contraccambiare. E poi è stata fatta la preghiera per accettare il Signore Gesù, sapere che non è la tradizione, il Magistero o la scrittura quella che salva, ma è la conoscenza dello Spirito Santo. Il Signore Gesù è nei nostri cuori, non è dentro la Chiesa o dentro la Bibbia. E quindi non so se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare. Alzi la mano e grazie a Dio. Domande. Anna, hai qualche domanda?